Cominciamo questa seconda giornata di Sex Solution Forum, giornata di formazione e informazione con un focus sul mercato della sicuretà ad uno sguardo internazionale. Lo faremo con un partner d'eccellenza, ASMAG, che è il gruppo editoriale autore dell'annuale indagine Security Top 50, con il quale peraltro abbiamo condiviso oltre dieci anni di cammino con l'avventura di AS Italy, che ora è nostro partner nella Security Media Alliance. In questo contributo video il nostro collega e amico Israel Gogol ci illustrerà i risultati di un'indagine svolta dal magazine cartaceo ENS International e dal magazine online ASMAG.com, di cui Gogol è responsabile editoriale, specifico che la casa madre dell'editore ASMAG, Messe Frankfurt, organizza peraltro le fiere Secutec e Intersec, quindi è anche un importante osservatorio angolare sul mercato globale. L'intervento di Gogol, tradotto in italiano, quindi non temete, si incentrerà sulle nuove sfide della supply chain nel settore sicurezza, ne abbiamo parlato anche ieri, ossia la trasformazione dei dispositivi di sicurezza dell'hardware in mere commodity, il consolidamento del mercato, la sua polarizzazione in qualche modo, e infine alcune tecnologie come il cloud che potrebbero mettere a rischio la tradizionale struttura del canale. Del resto, quando si riduce il numero dei fornitori presenti sul mercato, cosa che sta succedendo anche per acquisizioni, diminuisce anche la necessità di avere poi molti operatori di canale, quindi la digitalizzazione e la crescente diffusione del cloud rappresentano poi un rischio forse anche per il canale tradizionale, perché volendo permettono di fare affari direttamente con l'utente finale, volendo saltando a piepare il canale, succederà, non succederà, noi speriamo di no. Insomma, quindi il settore della sicurezza dovrebbe adottare un nuovo modello di business? E che tipo di partnership, di relazioni, di networking sono necessarie in questo nuovo mondo, un nuovo mondo che ci ha consegnato il Covid e poi tutte le tensioni geopolitiche del momento? Nel suo intervento, Gogol si concentrerà sugli ecosistemi aziendali, di cui sentiamo parlare ormai da molto tempo nel settore, ma cosa sono? Che impatto hanno e avranno sul comparto sicurezza? Servono o non servono? Non voglio spoilerare oltre. Lascio la linea a Israel. Buongiorno da Taipei, sono Israele di Asmag.com. Sono felicissimo di avere questa opportunità di partecipare oggi al modulo Sex Solution. Oggi parliamo di sfide che il settore di sicurezza, in particolare operatori di canale, devono affrontare e quali sono anche i modi per adattarsi a una realtà che è in continua evoluzione. L'intervento di oggi, infatti, si basa sulla nostra esperienza di giornalisti qui in Asia, parlando con produttori, ma anche con distributori, anche con degli integratori. Ma penso che gli insegnamenti siano universali e possono essere importanti, applicabili anche per chi vive in Italia, in Europa e anche nel resto del mondo. Quando infatti parlo con l'operatore del canale sicurezza e chiedo loro quali sono le difficoltà che devono affrontare i problemi che cercano anche di risolvere, quasi tutti mi indicano gli stessi punti. Il primo punto è la diminuzione dei margini, soprattutto per quanto riguarda le apparecchiature di videosorveglianza. Negli ultimi anni questa tendenza alla diminuzione dei prezzi delle fotocamere è stata definita una vera e propria corsa al ribasso. Ogni anni i fatti presti scendono e parallelamente sempre più aziende entrano nella rete di distribuzione. Sappiamo anche che le telecamere di sicurezza sono disponibili presso nuove aziende, come i distributori IT, i grandi rivenditori, i portali anche di shopping online, che offrono apparecchiatori di sicurezza per il mercato di massa e per gli installatori fai-da-te. Di conseguenza la concorrenza per gli operatori del canale tradizionale è molto più agguerrita e molti di loro vengono estromessi dal mercato o devono cercarsi nuovi prodotti da distribuire. Ora c'è anche una seconda sfida che è il consolidamento del settore della sicurezza. Da quando infatti molte aziende sono state estromesse dal settore sicurezza, oggi il settore è praticamente controllato da un manciata di grandi marchi. In alcuni casi questi marchi, come Motorola ad esempio, continuano ad acquisire nuove aziende e di conseguenza il ruolo degli operatori del canale professionale, dei distributori e degli integratori viene, come dire, abbassato, sminuito. Se ci sono in effetti solo 5 grandi aziende che controllano l'intero settore, capite che diminuisce anche la differenziazione tra prodotti e operatori di canale. Ora abbiamo anche un terzo problema, che è l'evoluzione del panorama tecnologico. Cioè questo ha un impatto sul modo in cui il nostro settore opera e anche sulle competenze richieste agli operatori di canale stessi. Infatti se noi consideriamo la tecnologia cloud come una delle maggiori tendenze che influenzano il settore della sicurezza, beh questa rappresenta anche una minaccia per il canale tradizionale. Infatti se le società, le aziende cloud, possono fare affari direttamente con l'utente finale, beh il ruolo del canale diventa meno significativo. L'utente finale quindi può rivolgersi direttamente al fornitore, non c'è cioè bisogno di intermediare. Ora è vero che il continuo miglioramento tecnologico dei dispositivi Edge rappresenta una sfida. Oggi i dispositivi Edge sono molto più potenti rispetto a dieci anni fa, sono dotati di nuove funzionalità e di conseguenza la loro installazione, integrazione e manutenzione stanno diventando più difficili. Ora questo costringe gli operatori di canale a migliorarsi, ma anche a fornire migliori competenze tecnologiche, oppure ad essere cacciati, letteralmente estromessi dal mercato. Ora una delle tendenze che io ho notato nelle mie conversazioni continue con gli operatori di canale, è che si sta cambiando anche il modo di fare business. Ebbene sì, perché se prima le aziende si concentravano sulla creazione di una barriera competitiva contro altre società, ora vediamo che sempre più società optano per la cooperazione invece che per la competizione. Lavorano cioè con altre aziende o player del settore sicurezza per creare un nuovo ecosistema che li aiuti a fornire prodotti e servizi entrambi migliori per la loro base clienti. Ora facciamoci però una domanda importante. Cosa sono esattamente questi nuovi ecosistemi? Il termine ecosistema aziendale o ecosistema di partner è diventato molto noto, popolare non solamente nel settore sicurezza negli ultimi dieci anni circa. Si è partecipato a una grande fiera come Intersec oppure ISC Western. Negli stand di grandi marchi vedrete piccoli gruppi di aziende che collaborano con loro e che fanno quindi parte del loro ecosistema. Ora la parte più difficile da capire è che spesso si trovano gli stessi marchi rappresentati in stand diversi. Questo rende più difficile capire cosa sia esattamente l'ecosistema e cosa differenzia soprattutto un sistema dall'altro. Si tratta di un vero e proprio ecosistema? Oppure si potrebbe trattare solo di una, chiamiamola, partnership di integrazione? Ora in questo intervento di oggi discuto proprio del concetto di ecosistema aziendale, le sue tipologie, la sua importanza e il suo impatto sul settore della sicurezza. La prima questione infatti da affrontare è quella di definire che cos'è esattamente un ecosistema aziendale, cos'è cioè che lo rende diverso dalle tante altre forme di partnership commerciale. Ora ricordiamoci che la società di consulenza manageriale Boston Consulting Group definisce un ecosistema aziendale come gruppo dinamico di operatori economici in gran parte indipendenti, che creano prodotti o servizi che insieme danno vita a una soluzione coerente che non potrebbero certo fornire da soli. Definizione questa che significa che ogni ecosistema presenta alcune caratteristiche. Uno, ad esempio, che gli ecosistemi sono formati per fornire una soluzione specifica, per risolvere un problema specifico. E punto numero due, i membri, ovvero un ecosistema aziendale, ha dei membri che sono ben definiti, dei membri cioè che hanno dei ruoli unici e dei ruoli diversi. Ora, tutti questi membri collaborano, c'è una connessione multilaterale fra tutti loro. Ora, non si tratta solo di connessioni bilaterali, ad esempio fra l'azienda A e l'azienda B o l'azienda A e l'azienda C, ma tutte e tre queste aziende di questo sistema collaborano, cioè lavorano insieme. Ora, se c'è una differenza del prodotto della velocità di sviluppo di un'azienda, questo avrà un impatto sul resto dell'intero ecosistema. Ora, ciò significa che anche l'offerta di prodotti di queste aziende deve essere coordinata, cioè c'è un meccanismo di coordinamento del lavoro e per assicurarsi che tutti i prodotti siano compatibili c'è anche un certo grado, oltre a questa compatibilità, di personalizzazione dei prodotti. Ora, la verifica di tutti questi aspetti ci può aiutare a distinguere se si tratta di un vero e proprio ecosistema, oppure se si tratta di una semplice partnership di integrazione. Ci facciamo però anche un lato quesito che è veramente fondamentale a mio avviso, ovvero quali sono i tipi fondamentali di ecosistema. Quando infatti parliamo di ecosisteme tradizionali distinguiamo due tipi di ecosistemi, quelli di soluzioni e quelli di transazioni. Ora, quelli di transazioni cosa sono? Sono delle piattaforme centrali che collegano fornitori indipendenti da una parte con acquirenti indipendenti o buyer dall'altra. Si tratta cioè di un processo di incontro a persone che vogliono vendere un servizio e persone che desiderano invece acquistare quel servizio stesso. Un esempio potrebbe essere l'app store del vostro smartphone, che mette in contatto molti sviluppatori indipendenti di app con voi e voi quindi potete scegliere esattamente ciò che vi serve. Questo concetto è ormai vecchio di secoli, si trova in ogni fiera, in ogni mercato che funge da piattaforma per facilitare le transazioni tra venditori e acquilenti. Ora, sappiamo però che nel contesto del settore sicurezza un ecosistema di transazioni potrebbe non essere il più adatto. Nel senso che nei progetti di sicurezza è necessario combinare e associare diversi sistemi in una soluzione coerente. Le modifiche a un componente del sistema possono infatti avere un impatto anche sugli altri componenti dello stesso sistema. Dobbiamo assicurarci che tutto funzioni senza problemi congiuntamente. In questo caso potrebbe essere più adatto un secondo tipo di ecosistema, quello di soluzioni. L'ecosistema di soluzioni ha un player, cioè un attore centrale, un'azienda centrale che funge da orchestratore. Riunisce, cioè, tutte le diverse aziende che compongono l'ecosistema, definisce le regole della loro collaborazione, nonché svolge un ruolo di risoluzione di eventuali controversie o problemi fra queste aziende. Quindi, oltre a questo direttore o orchestratore, abbiamo i fornitori. Sono proprio i fornitori a monte che permettono la soluzione. Ad esempio, i fornitori di telecamere o semplicemente un'azienda che offre l'infrastruttura cloud oppure l'infrastruttura di rete. E poi abbiamo i cosiddetti complementari. Si tratta delle aziende che offrono ulteriori servizi per andare a migliorare, oppure perfezionare e sicuramente aumentare il livello di valore della soluzione offerta. Ora, entrare a far parte di un ecosistema di imprese presenta sia dei vantaggi sia degli svantaggi. Allora, il vantaggio è che potete accedere a una gamma molto ampia di prodotti e servizi che potrebbero essere troppo complicati o troppo costosi da sviluppare da soli. Questo vi darebbe maggiore flessibilità, più velocità, più capacità di rispondere alle richieste dei clienti. Inoltre, questa opportunità vi consente di aprire nuovi canali di vendita e, perché no, espandere il vostro business in nuovi mercati o anche in nuovi settori verticali, quelli che, ad esempio, non avevate mai affrontato in precedenza. Questo significa, però, che ora dovete collaborare con delle altre persone che sono indipendenti e che non potete controllare nello stesso modo in cui potete controllare una catena di fornitura verticale che fondamentalmente fa riferimento solo a voi. Un altro problema degli ecosistemi è quello della distribuzione del valore. È infatti necessario assicurarsi che il valore generato da un certo progetto sia distribuito fra i diversi membri, senza che questi abbiano la sensazione di non ricevere il giusto compenso per tutti gli sforzi che sono stati compiuti. Molto bene, come facciamo allora a scegliere il giusto ecosistema? Ora, anche se siamo convinti che la strada da percorrere per voi sia quella della collaborazione e non della competizione, state anche pensando di entrare a far parte di un ecosistema o esistente o anche di avviarne uno vostro. Per promuovere i vostri prodotti e servizi dovete comunque affrontare alcune questioni che sono veramente molto importanti. La triste verità, infatti, è che la maggior parte degli ecosistemi aziendali fallisce. Perché? Perché non riescono a soddisfare la domanda del mercato o anche per il modo in cui sono organizzati i governati. Quindi la prima domanda veramente da porsi è la seguente. Sto risolvendo un problema abbastanza grande. Ora, se guardiamo il contesto del settore della sicurezza, possiamo pensare ad alcune aziende che hanno cercato di creare un proprio marketplace o anche un market digitale. oppure hanno provato a creare una propria app, ad esempio nella App Store, per offrire i propri servizi. Ma purtroppo non ci sono riuscite e hanno dovuto chiudere il tutto nel giro di due o tre anni. Il problema, cioè che stavano cercando di risolvere, non era abbastanza grande perché nel mondo B2B non è un problema trovare il fornitore di soluzioni. Il problema più cruciale, quello critico, è proprio l'interoperabilità tra i diversi sistemi. Ecco perché degli ecosistemi come ONVIF oppure anche il SIG-B per le case intelligenti o anche il nuovo standard appunto sono così importanti. Questi in effetti consentono proprio a prodotti diversi di lavorare tutti insieme. Ok? Quindi il nuovo matter ad esempio, beh, permettono proprio di lavorare insieme senza problemi. Sono questi un esempio molto più riuscito di ecosistema aziendale. Ora poniamoci anche un secondo quesito. Ma come è distribuito il valore tra i diversi partner dell'ecosistema? Ebbè, la distribuzione del valore deve essere equa e attraente per tutti i partner, in modo che ciascuno senta di ricevere un valore sufficiente a compensare gli sforzi che ha investito proprio dell'economia. Attenzione, questo non significa solo valore monetario. Il valore, infatti, può essere anche l'accesso alla tecnologia, l'accesso alle informazioni che riguardano i clienti, oppure l'accesso a tanti altri settori. Quindi ci sono diverse tipologie di valore di cui i partner possono beneficiare. Non si tratta, cioè, solo del denaro. È fondamentale che ognuno dei player, degli attori sul mercato, sia sicuro di ricevere un ritorno dall'ecosistema. Altrimenti questo player si sentirà insoddisfatto e di conseguenza non sarà più disposto a collaborare così tanto con tutti quanti gli altri membri. Ora, ci sono anche degli altri segnali di allarme che noi possiamo osservare, ad esempio, se l'ecosistema continua a cambiare la sua definizione. Qual è il problema, cioè che vuole risolvere e soprattutto come lo vuole risolvere il problema? Se c'è una disparità, se c'è uno squilibrio tra numero di fornitori e numero di potenziali acquirenti o anche viceversa, se abbiamo molti acquirenti ma non abbiamo abbastanza fornitori oppure troppi fornitori e non abbastanza acquirenti, ecco, insomma, che l'ecosistema non ce la farà, non riuscirà a portare avanti il proprio successo. Ora, dopo esservi assicurati che i valori fondamentali dell'ecosistema, la distribuzione, cioè del valore, la volontà dei membri di fare affari siano tutti allineati con le vostre esigenze e necessità, la domanda successiva è quale ruolo dovete svolgere all'interno dell'ecosistema aziendale. Sono molte infatti le aziende ad essere attratte dal ruolo di orchestratore, l'azienda centrale che organizza tutti, che riunisce le altre aziende, che definisce le regole, che funge da arbitro in caso di conflitto e che naturalmente trae il massimo valore dall'intero ecosistema aziendale. Ora, questa è però una posizione molto complicata perché non si può scegliere di essere l'orchestratore o comunque essere al centro dell'ecosistema. Tutti quanti gli altri player, tutti gli altri attori devono accettarvi appunto come organizzatore o orchestratore dell'ecosistema. Ora, se non avete lo stesso livello di rispetto e di collaborazione da parte degli altri attori, non sarete certi in grado di sostenere e far funzionare un buon ecosistema di aziende indipendenti. Ora, l'essere complementari o fornitori presenta dei vantaggi. Innanzitutto la quantità di investimenti necessari da parte vostra è minore rispetto all'orchestratore, che invece deve riunire tutte le persone e assicurarsi che collaborino. Un altro vantaggio che si può avere come collaboratore e non come orchestratore è che si possono testare le acque con alcuni ecosistemi che si adattano alle proprie esigenze, dopodiché possiamo scegliere quello secondo noi più adatto. Ora, l'ultimo punto da discutere è l'impatto che questo passaggio dalla concorrenza alla cooperazione avrà sul settore della sicurezza. Attenzione, questo è un cambiamento già in atto, ma sta avvenendo soprattutto lato fornitori. Basta fare riferimento ai diversi ecosistemi che esistono tra i vari fornitori di apparecchiature di sicurezza. Infatti, se guardiamo al futuro, credo che possiamo intravedere già alcuni sviluppi. Il primo è una maggiore innovazione di prodotto. Questi ecosistemi, che ora si riuniscono per progetti specifici, saranno anche in grado di fornire nuovi prodotti. Dal progetto, questa offerta sarà poi tradotta in un prodotto che potrà essere scalato e che conseguentemente potrà essere offerto ad altri clienti simili in altri paesi del mondo. Ora, c'è anche un secondo aspetto interessante che vedremo in futuro, cioè il crescente coinvolgimento degli operatori di canale in questi ecosistemi. Guardate, al momento gli ecosistemi sono limitati ai fornitori, ma anche gli operatori di canale possono svolgere un ruolo fondamentale. Vedremo alcuni fenomeni nel prossimo futuro. I distributori diventeranno rivenditori a valore aggiunto, apportando tutta la loro esperienza, la conoscenza del settore, la conoscenza dell'intero mercato e la aggiungeranno ai prodotti esistenti. In questo modo diventeranno complementari, cioè riusciranno ad aumentare il valore della soluzione. Vedremo anche come gli ecosistemi stessi trarranno vantaggio da una partnership attiva con il canale, poiché si trovano a diretto contatto con i clienti e quindi potranno arricchire l'offerta di prodotti apportando dei dati granulari che saranno basati sulla loro conoscenza, cioè sulla loro familiarità con i clienti e con le esigenze dei clienti stessi. Vedremo anche che nuove aziende non operanti nel settore della sicurezza si uniranno a questi ecosistemi commerciali per andare ad offrire un valore che va oltre la sicurezza. Qui veramente l'immaginazione direi è l'unico limite. Possiamo infatti pensare a diversi tipi di collaborazioni che consentano agli utenti finali di ottenere una migliore efficienza, ma anche un miglior utilizzo delle loro risorse. Questo vuol dire trarre il massimo dai loro sistemi di sicurezza. Ora si può anche trattare di una combinazione, quindi di un mix con un sistema di risorse umane, poi un'azienda di servizi pubblici che collabora con i produttori di sensori per andare a risparmiare acqua oppure elettricità. Si può anche trattare di una catena alberghiera. Questa catena utilizza i sistemi di sicurezza per migliorare il servizio ai loro clienti. Ora tutte queste integrazioni sono destinate a verificarsi e se guardiamo ancora più da vicino sono sicuro che ne vedremo altre nel prossimo futuro. Bene, io vi ringrazio allora per l'opportunità per parlare con voi oggi e spero che l'incontro sia stato interessato. Vorrei anche invitarvi a seguirci su asmag.com, una newsletter settimanale inviata a 24.000 operatori dei canali di sicurezza di tutto il mondo, tratta notizie di tecnologia e di business. Ora, se avete delle domande, dei quesiti, dei commenti, trovate qui a schermo il mio indirizzo e-mail. Sarò veramente lieto di rimanere in contatto con tutte e tutti voi. Grazie ancora per questa opportunità e in bocca al lupo! Grazie! Grazie! Grazie.